I armeni, questa sera appuntamento d'eccezione, medioevo nel cinema e con numerosi riferimenti a lungo. Quindi qualcosa che ci tocca da vicino, Fabio Varelli è qui con noi e niente, adesso do... No, parlo dopo, no? Sennò chiudo. Va bene, allora, ok. Ok, allora, Fabio Varelli, creativo cinematografico, docente di storia del cinema all'Università Pestadina di Perugia, e già altre volte ci ha rietato qui in biblioteca, do subito la parola a lui e poi vedremo numerose ispezioni di film per questa serata, grazie. Grazie Gabriele, buonasera a tutti, l'immagine del medioevo nel cinema italiano, preferite che stia seduto oppure in piedi? Ma è quasi tu! Beh, la posso, magari mi metto, come dire, a metà. L'immagine del medioevo nel cinema italiano, io ho spesso riflettuto su questo argomento, un'immagine legata soprattutto ad un film, questo film è l'Armata Branca Leone, un film di Mario Monicelli del 1966, un film in cui Mario Monicelli programmaticamente volle togliere al medioevo quell'immagine un po' stantia che era stata, se vogliamo, perpetuata dalla scuola ma anche dal cinema, soprattutto dal cinema americano. Monicelli raccontava di come volesse dare un'immagine diversa da quella di un medioevo con eroi cavallereschi, con virtuose donzelle, castelli incantati, combattimenti leali, rovesciare il tutto in una forma balonica, cioè in buona sostanza applicò al medioevo quanto aveva già fatto nel caso della Prima Guerra Mondiale, nel film La Grande Guerra. Infatti l'Armata Branca Leone per certi versi lo possiamo anche considerare una sorta di soliti ignoti nel medioevo, perché si tratta di una banda raccogliticcia che si propone un obiettivo che non può che fallire, non può quello che succede ai protagonisti dei soliti ignoti. Oltretutto due attori tornano dal cast dei soliti ignoti e sono presenti anche nell'Armata Branca Leone che sono naturalmente Vittorio Gasman, nel ruolo del protagonista, e Carlo Pisacane che era un attore napoletano che doppiato in bolognese da Mico Pepe era stato capanelle nei soliti ignoti e che è a vacut, il gran mastro di mercati, nell'Armata Branca Leone. Quindi ci sono dei legali tra questi due film. Quindi si trattava in un modo quasi programmatico di veicolare un'immagine diversa del medioevo, molto più realistica e decisamente anticonvenzionale. Anche perché l'immagine che si era creata a livello cinematografica era quella dei grandi film hollywoodiani, di quel grande cinema in tecnicolo degli anni 50, che aveva avuto in film come a Emanoe e i Cavalieri della Tavola Rotonda, entrambi, biletti da Richard Thorpe con Robert Taylor nel ruolo del protagonista in entrambi i casi, aveva avuto appunto i suoi esiti commercialmente più significativi, più importanti. Il cinema sfarzoso, il cinema appunto che raccontava il medioevo era sostanzialmente questo di Hollywood. Ma come spesso accade, e questo poi nel tempo ho scoperto, non è che il film di Monicelli nasca senza avere dei riferimenti pregressi. Il film di Monicelli nasce comunque in un contesto, quello del cinema italiano a cavallo degli anni 60, in cui pure è possibile scorgere degli antecedenti, in particolare un film che si intitola I Cento Cavalieri, ma di questo magari parleremo tra qualche minuto. Prima vorrei tornare un attimo indietro, tornando quindi all'epoca del cinema muto. Io ho cercato di capire quale fosse il primo film italiano di argomento o di ambientazione medievale. Quindi mi sono imbattuto, ecco perché prima facevo quella battuta a Gabriele, mi sono imbattuto in un curiosissimo film del 1907, tentiamo prima di far vedere l'immagine, un film di 75 metri, quindi appena tre minuti. Dobbiamo pensare che in quegli anni i film erano piuttosto corti. Due anni prima era stato realizzato il primo film soggetto ufficiale della storia del cinema italiano che si chiama La presa di Roma sulla breccia di Porta Pia, un film diretto da Filoteo Alberini, 1905, che era stato considerato un lungometraggio, un film della durata inusitata, un film oltretutto ricco di scene di massa, d'azione, un vero e proprio colossal. E il pubblico si sorprese di quanto durasse. Pensate, durava addirittura dieci minuti. Era questa la misura del lungometraggio in quegli anni di cinema molto. Allora, sono film che oggi potremmo definire cortometraggi, quelli che vengono realizzati in Italia prima del 1910. E tra gli altri film, appunto, primo, che a me risulti, di l'argomentazione medievale, c'è questo curioso, che lo possiamo vedere, abbiamo un'immagine, lo vedete? Il telefono nel medioevo. Questo è un film del 1907, film diretto da Ernesto Maria Pasquali, ed è un film, come si diceva all'epoca, intanto dura tre minuti, 75 metri di lunghezza, è un film che, come si diceva all'epoca, è diviso in quadri. È ancora un cinema primitivo, un cinema di inquadrature fisse. Qui ci sono tre quadri, tre inquadrature fisse, in cui il trovatore, che vedete in basso nell'immagine, nel primo quadro fa una serenata ad una donzella affacciata, come vedete, da una finestra. Nel secondo quadro cercano di capire com'è possibile instaurare un contatto più diretto e decidono, appunto, di utilizzare questo tubo. Nel terzo quadro, si tratta di uno shot, di un cortometraggio decisamente comico, il padre della donzella, evidentemente infastidito da questo tipo di atteggiamento del trovatore, persa dell'acqua nel tubo e l'acqua finisce nell'orecchio del trovatore. Questi pochi minuti possono rappresentare una sorta di battesimo del argomento. Prima diceva Gabriele che sono molti i film girati in Umbria di argomento medievale. Tra quelli più curiosi, mi è capitato qualche anno fa, con una benemerita rassegna manifestazione cinematografica di Trieste, di vedere un film che si chiama Caterina da Siena, è un film del 1947 di Oreste Palella, un cineasta siciliano che credo abbia avuto un forte interesse della Santa Toscana, perché qualche anno dopo c'è un altro film su Caterina da Siena che si chiama Io Caterina, nel 1955. Questo Caterina da Siena, 1947, è un film girato interamente a Perugia. Quindi Perugia nel film rappresenta la Siena del tempo di Santa Caterina, si possono vedere i discorci di Via Maestà delle volte, ma addirittura anche l'Arco Ebrusco, la Sala dei Notari, la Rocca Paolina. Quindi è un film che andrebbe forse anche recuperato, perché no, eventualmente restaurato e messo a disposizione anche di una documentazione di storia Caterina. Il film molto interessante viene in un'epoca in cui il cinema italiano era segnato dalla diffusione delle pellicole neorealiste, ma molto spesso l'interesse del pubblico andava più verso questo tipo di cinema che verso il cinema neorealista che aveva successo soprattutto all'estero, soprattutto un successo di critica, coronato in alcuni casi anche dagli Oscar. Sempre di argomento medievale c'è un film dello stesso anno che si intitola Genoveffa di Brabante, dalla leggenda aurea di Jacopo di Varazze, un film di primo zeglio, in cui i due protagonisti sono Gerlur e Harriet White. Questi due attori sono i protagonisti rispettivamente dell'episodio romano che lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, hanno molto preso dalle scene di questo film di Cottafari. E non solo, lo stesso l'armata Branca Leone ha tolto di peso alcune inquadrature. Poi vedremo anche adesso nel trailer. Questo trailer che vedremo nel film di Cottafari è interessante perché ci presenta il film proprio nella sua sostanza, anche di film brettiano, film straniante, un film in cui non ci sono buoni e cattivi, eroi anche eroi, ma dove anche l'adesione emotiva dello spettatore salta da un personaggio all'altro. Si racconta di un gruppo di mori che prende possesso di una cittadina della Castiglia, siamo intorno all'anno 1000. I cittadini spagnoli organizzano una forma di resistenza, nel film c'è anche una qualche eco dell'occupazione nazista, c'è a sua volta una filazione di Roma città aperta quando i figli dei cittadini di questo paesino della Castiglia decidono di sabotare i nemici, un po' come succede nel film Roma città aperta. Ma vediamo questo trailer che, meglio credo delle mie parole, può darvi l'idea di quando questo film fosse anche moderno, quando questo film potesse essere un antecedente diretto del film di Moricelli, due anni prima, perché siamo nel 1964. Vedremo naturalmente i protagonisti, quando puoi partire, Arnoldo fa, Mark Damon, come si spinge? Battendo le mani? No, vai! Allora intanto inganniamo l'attesa, Vittorio Contafari, il regista di questo film, film, ma vedi di parti sì dall'inizio, il regista di questo film è un regista che dopo l'insuccesso dello stesso si dedicò alla televisione e tra l'altro il regista di due fortunatissime serie televisive della RAI dei primi anni 70, i racconti di Padre Brown, che ricorderete, con Renato Lasch e A come Andromeda, che è una serie di fantascienza. Allora possiamo vedere lo spezzato. E' vero voi, compagni, una decina! Venti, sono di più! Ah! Venti, signore, venti! Sono di più! Ah! Quanti sono? Ah! E' adesso ne lo so, signore! Carica! Ma io con questi dovrei riferire una vera, comunque è un film epico. In nome di Dio grande e misericordioso, in nome del Dio che eserciti e ricondusse il re della terra promessa, avrei qui facciamo solenne il provento di liberare questo glorioso suono di Spagna dal tiso onore della schiavitù. E' anche più che riesco. Spagna, spagna! Spagna, spagna! Scusi, lei è l'eroe della vicenda? Sì, sono io. Ho giusto! Ehi, che fate? Alzatevi! 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 Niente il partito! Ci conosciamo dentro! La guaccia falconi, idioti! Ehi, sono qui! Non vi incovodate per togliere i sacchi! Ci vencerà anche dei uomini! Vabbè, mi pare che come eroe... No, vedete, io sono eroe, ma di una bella, bellissima storia d'amore! Direi che anche come eroe amoroso, perché a voi le cose sono sempre andate tutte bene, vero? Alla fine è andata bene anche a voi! E non solo in amore! E non solo in amore! Scusi, ci sono torture? Un po' sadico, eh! Certo che ci sono! Però questa è molto più brutta! Non si vede nulla! La fantasia porta più forza dell'immagine, no? No! E' un film di violento, immorale! No, immorale no! Ci sono anche due anni! Casi! Ecco! E' scelta! Ma che cattivo? Ecco l'immagine! Eh! I cattivi ce ne sono tanti! È un film! È un film epico! È un film epico! È di picaresco! E' un film epico! È di picaresco! È un film epico! Cosa vuol dire? Eh! solamente a vedere il film e capirete ma di un numero incredibile ma infatti è un film mi sembra un legato ecco, sì no, effettivamente è un film sorprendente perché è un film molto poco conosciuto però rappresenta già un osguardo picaresco sulla materia che noi in genere attribuiamo come approccio originale di Moricelli in realtà già in questo film è presente molto di quello che poi vedremo caratterizzare lo sguardo di Moricelli sul merivevo forse manca per esempio quella coine linguistica quell'impasto di italiano per volgare forme di alettà, il latino maccheronico che invece andrà a caratterizzare a connotare la lingua di Brancarione perché Brancarione soprattutto introduce un linguaggio nel cinema italiano una forma linguistica che poi a quel momento diventerà un po' una sorta di lingua ufficiale in tutti i film sul medioevo soprattutto di quei film i cosiddetti decameronici quei film che in qualche modo si ispiravano per quanto la lontana al primo decameron di Pasolini naturalmente rappresentandone delle derive come dire boccacesche letteralmente parlate dei quali magari poi in seguito parleremo per quanto riguarda noi abbiamo anche l'armata Brancarione ecco in questo caso vorrei farvi vedere una sequenza interessante perché il film L'armata Brancarione è un film che ha anche delle location umbre non solo perché il film in realtà è stato girato prevalentemente in intorni di Roma in Puglia e in altre località ma ci sono anche degli ambienti umbri ecco in particolare nella sequenza che adesso vediamo abbiamo la cittadina di Arrone nella quale si consuma un duello un torneo cavalleresco che per certi versi appunto viene rappresentato come la parodia di quello che potrebbe essere un torneo cavalleresco che potremmo vedere in un film hollywoodiano è proprio l'inizio del film in cui Vittorio Gasman nel ruolo di Brancarione perde ah e dobbiamo andare avanti forse ancora un po' vediamo il cavallo giallo aquilante che veramente diventa ah che ferma che un attimo torna indietro ferma ecco vedete ferma qua ecco vedete questa è l'armata di Brancarione no? vi dicevo Carlo Pisacane che era stato capanello nei soliti ignoti Forcolulli Pecolo che come sapete a un certo punto si accompagnerà con un orsa quindi di cui diventa il convivente muore un storio e quindi lascia la compagnia e poi al centro con quel vestito grigio Ugo Fangareggi Ugo Fangareggi che interpreta il ruolo dello stroboto Mangold un attore caratterista che era iniziato come un donto tecnico e poi era stato scoperto da Gasman nella cui compagnia si produce fin dall'inizio degli anni 60 questo è un attore recentemente scomparso che mi piace ricordare perché qualche anno fa lo invitai e Franco e Cristina si ricorderanno all'associazione Porta Santa Susanna parlando proprio di questo film il tema il titolo di quella conferenza era Re Artù i Cavalieri della Tavola Calda questo era il titolo della conferenza che fa pensare un po' all'approccio scherzoso che aveva avuto ecco là possiamo andare avanti così vediamo questo torneo cavallesto pronto ai piedi della città di Arora da uno grande e nobile cavaliero che ce l'ha detta in punto di morte ora noi offriamo a te cavaliere ardito e senza macchia e senza palante l'avventura di prendere possesso del ricopeuro e della rocca di Auro Castro al fatto che tu fai gran giuramento di spartire ogni ricchezza e ogni bene con tutti noi voi sapete chi io sia noi avrete sentuto suppongo lo nome di croppone da figulle fu il più grande capitano di Duscia e io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo pagliò in due lo mio nome spari a tempi lo mio nome è Branca Leone da Torcia un ricco signore di queste terre fa offerta all'incitore di questo torneo della nomina gran capitano d'arma non chiede la mano di sua figlia Lucrezia fate conto che Branca Leone da Torcia aveva già in pugno la nomina entro lo ricco matrimonio quindi sgombrate omeni da poco voi e lo vostro misero feudo guise vigneti bestiame e mare pescoso da facere a mezzo e di oltre ponio bene a mente mezzo Branca Leone da Norcia non cresce mai a mezzo con nessuno vai vai ma la bestia si è prendono parte a questo torneo dei cavaliere favore d'oto cadetto di vetrata marardo di sud marcone di ranno di turmona di sire di saccarone crimone detto manuta blanca Leone che vann BARCONE gli ioni sono averei pi Tot mi pic vann Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e... e... e ha ucciso il fratello. e... 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 Vengo da... carosello. Grazie a tutti. e... ecc... e... perché... e... e... Grazie a tutti. In... e... 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 adesso lascio...